Musica 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 Si Si è abbandonato adesso hanno ripreso le case come prima che diceva il valore che cos'era il suo letto non trovava più la sedia se tornava a casa cioè le cose nei nostri testamenti antichi dei documenti quando c'erano i capitoli matrimoniali degli accordi dai finanziari futuri sposi insomma e si dava il materasso, si dava il lenzuolo si dava la brandina e queste erano le più infortunate insomma e con la pinta pezza per la polvere non è che c'erano i grandi averighi ora queste periodi questo è molto bello comunque le succedono però abbiamo forze di corso storico perché se no leggiamo i documenti dell'ottocento allora spegniamo le luci pure se non c'è la musica diciamo che non ci sono parole quindi basta vedere queste allora scendiamo scusate che è un problema che si è ripercosso pure nel primo video quindi la prossima volta portiamo un computer oppure c'è un problema di suono perché non lo fa nell'altro comunque cambiamo computer vedremo allora Paola chiaramente come sapete tutti il Pentitattilo è un luogo abbandonato anche se in questo periodo da qualche anno c'è un'azione di recupero di creazione di case albergo, di creazione di piccole botteghe per recuperarlo questi erano proprio i primi anni in cui si faceva il festival in cui si cercava proprio di rivitalizzare questo borgo e Edettaetta facendo questo ciclo un po' immagina che invece sia un borgo in cui ancora qualcuno vive benché insomma è una situazione è una situazione quindi si chiama il mondo queste sono le case praticamente del borgo di 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 come vedete c'è il racconto di una madre che sta preparando vedremo adesso sta rifacendo il letto e poi vedremo che preparerà una valigia che è poi la valigia del figlio Nello stesso tempo si vede questa famiglia di familiari che vivono lì e lì già lavorano. Questa integrazione anche con il lavoro, la cucina, la preparazione, vediamo che praticamente queste persone abitano queste case un po' diroccate, abbandonate, sempre molto suggestivo però con le quali ancora c'è molto da lavorare. Però la rappresentazione poetica che ne fa l'autore è quella di un luogo che cerca di vivere ma abbandonato. Lui immagina questa cosa perché a quanti dati sappiamo che in realtà non è così. Adesso si sta facendo ma dobbiamo pensare che dieci anni fa era soltanto una cosa che lui immaginava. E qui c'è appunto il lavoro nei campi, il giovane italiano che fa vedere al giovane intracomunitario come si lavora nei campi, sul trattore, etc. E poi sarà invece lui a lasciare la terra. Non sappiamo se appunto è un'immigrazione di quella di cui parlavamo prima, no? Sono quelli in fuga che decidono di abbandonare i paesi che purtroppo non ci possono dare nulla. Se non vado a dare De Seta utilizzato per questo film, sia ma in stranze locali come tecnici, eccetera, ma anche attori giovani o anche persone non attori che hanno deciso di lavorare con lui in quest'opera. vediamo appunto ancora il lavoro nelle campagne. Poi c'è il momento della convivelità, la sera in cui si ritrovano sia la famiglia del luogo che l'extracomunitario. Ecco qui c'è la madre che prepara la valigia al figlio che dovrà partire il giorno dopo. E questo è il momento della partenza con la classica. qui si vede il lungomare di Reggio dove c'è una manifestazione, c'è una banda. ciò era fino alla stazione centrale, l'arrivo alla stazione e la partenza di questo ragazzo. bene intanto abbiamo verificato questo come l'argomento dell'immigrazione comunque in ogni caso da più che degli spunti di tipo tematico, degli spunti di tipo visivo dove le inquadrature dimostrano arrivi, partenze, valigie, famiglie che si disgregano e opportunità di lavoro che in parte insomma sin dalle primi del novecento si ricercava fuori dal nostro contesto. perché vanno avanti molto questi corti? perché noi abbiamo visto il contrasto che tu hai fatto vedere tra le immagini di questi corti in bianco e nero all'inizio e alla fine e per esempio quello stralcio del film sulla vita del cantante eccetera eccetera si vedeva una differenza diciamo abissale. questi diventano più documentari o no? in alcuni casi sì, in altri magari che abbiamo visto anche nelle altre video di battiti c'è invece proprio un racconto che si spiega in pochi minuti. allora è sia un'esigenza da parte dell'autore di rappresentare, di raccontare qualcosa in pochi minuti con un'arte che è difficilissima perché raccontare una storia in pochi minuti non è certo qualcosa di semplice e a volte per esempio per i più giovani che si approcciano a questo lavoro di regista, di autore magari sono anche delle esigenze produttive, un modo anche per farsi notare qualcosa di più breve anche perché oggi con le nuove tecnologie c'è la possibilità di poter mettere su internet un breve cortometraggio, un breve film e quindi magari di poterlo distribuire e regolare più facilmente rispetto alla produzione di un film vero e proprio. per esempio faccio un esempio citando un premio Muse, Fabio Mollo, no? il primo film di Fabio Mollo, Il Sud è niente, in realtà nasce come sviluppo di un cortometraggio premiatissimo cioè lui appunto ha cominciato con questo cortometraggio in cui si raccontava una storia a tempo e girata a Reggio e poi questo cortometraggio ha avuto dei finanziamenti per essere poi sviluppato in una storia più ampia quindi spesso i giovani lo utilizzano come punto di partenza e gli autori invece magari di un tempo quindi appunto De Seta che è scomparso a 88 anni Piavoli che ne ha 85 e che ancora continua ad essere attivissimo invece magari l'hanno scelto proprio come mezzo espressivo forse anche per muoversi più liberamente rispetto a un film più lungo in cui bisogna magari anche sottostare ai voleri di un produttore che magari non essere d'accordo su quello che si vuole dire e si vuole spiegare magari sia anche un po' più liberi, più indipendenti si può raccontare più facilmente quello che è la propria storia o il proprio racconto qui è chiaramente una produzione internazionale stiamo parlando di un regista che per altri film è stato candidato al premio Oscar come miglior film straniero quindi già sono produzioni più importanti internazionali con attori appunto di vari paesi quindi c'è un respiro diverso e c'è la possibilità anche di raccontare varie sfaccettature diciamo dell'aspetto per esempio appunto dell'emigrazione qui vediamo l'inizio c'è la parte proprio girata in Puglia purtroppo ma la parte che racconta la vita in Calabria di questo bambino e si spiega proprio come nasce questa urgenza di andare via, di trovare una vita migliore quindi c'è la possibilità di spiegare tanti tanti aspetti la vita di questo bambino per esempio che deve vivere da solo con la madre i primi anni che deve essere responsabile della sua famiglia prima che il padre gli richiami insomma sono vari modi di esprimarsi c'è qualcuno che vuole intervenire, che vuole dire qualcosa eccetera anche perché a noi, a parte le immagini sono i contenuti in un certo senso stasera per la tematica quindi la base, il sottofondo ci avrebbe detto poco rispetto a quello che è perché in effetti abbiamo visto tre impostazioni diverse la prima che ha un valore documentario quindi anche come i primi documentari appunto che venivano fatti i primi anni del Novecento diventavano e come la televisione sceglieva anche queste tematiche negli sceneggiati la seconda era molto artistica perché avete visto quei flashback che passavano velocemente sembravano proprio questo iperrealismo in cui tutto passa velocemente esiste in maniera molto monocroma esiste proprio una corrente attualmente che cerca di studiare questi movimenti in maniera molto veloce e molto dinamica e poi l'ultimo documentario che è attinente alla nostra radice quindi mi sembrano tre esperienze diverse visive che cosa vi ha magari impressionato, che cosa volete aggiungere, che cosa vi ha colpito non lo so se c'è qualcuno che vuole dare un suo modesto parere prego, se può venire qui al microfono così ci sentiamo ed è meglio, chiedo scusa no, 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 io ho la voce a me benissimo, grazie ho una domanda alla dottoressa, voglio dire, non c'è volevo raccontare una cosa che mi hanno raccontato nel 1975 gli emigranti calabresi partivano da Napoli, andavano col treno a Napoli dove erano sottoposti a una visita, quindi prima di lei c'era una visita a Napoli e un giovane che si era fidanzato da poco pianse tanto per il dispiacere di lasciare una fidanzata che si stropicciò continuamente agli occhi in San Madro a Napoli e lo rimandarono indietro perché pensarono che fosse una malattia degli occhi questo è un episodio un altro episodio è che lavoravano tanto perché il loro proposito era quello di granellare il gruzzolo per tornare in paese, farsi la casa, migliorare le condizioni di vita della famiglia si ritrovavano così stanchi la sera, che altro che straordinario che dopo che mangiavano, un mangiare molto sobrio, molto semplice, non riuscivano a lavare i casseruoli, i piatti, eccetera e lasciavano lì un bel giorno una pentola all'interno si fece un giro così di cose, di resti di cibo che pensarono di buttarla al mare perché ormai entrava poco cibo da cuocere e dice che questa pentola dopo un poco che era stata buttata in mare come un neccoso, come un seluro, come spuntò dall'acqua e salì al cielo che erano fatti quindi, insomma, storie e leggende in un certo senso si uniscono all'avvenimento quello degli occhi comunque è interessante, è anche un discorso di suggestione io fece una poesia, la trasferì in poesia e in dialetto poi se le interessa la faccio a dire come no, con grande piacere c'è qualcuno? Dottore Getto, prego, voce mi pare che è stata descritta molto bene tutta questa storia nel romanzo, la signora di Arendt, di Nimo Vengemi, non so chi l'ha letto di voi l'ha letto? bellissimo il libro, tutto quello che ha detto e poi un'altra cosa, mi pare che Rocco Granata era più o meno nello stesso periodo, un coetaneo di Adano, un altro, in Calabrese quello che ha cantato la notte in giovane non ce lo ricordo no, come non me lo ricordo? mi pare che più o meno avevano la stessa storia sì, sempre figli emigrati sì, Calabresi tra l'altro sì, 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 quindi c'è un'altra cosa che una volta noi esportavamo povertà adesso importiamo povertà e la differenza che mi ha detto qualche donna che è rimasta di cosa quando partendo i nostri portavano le sorelle, le mamme, le cugine ma quelle non si costituivano quelle purtroppo che vengono qui abbiamo qualche dubbio perché la gerosia da noi era notevole beh, però io per questo vi invitavo c'è stata appunto questa regente fiction che magari molti di voi avranno visto la vita promessa e in realtà c'erano molte situazioni di questo genere perché insomma nel regolamento qualcosa c'era nel regolamento qualcosa c'era e sicuramente qualcuno sfuggiva al regolamento quindi se hanno fatto il regolamento sicuramente condizioni poi di questo tipo ce n'erano insomma quelli erano attori professionisti oppure quelli dall'inizio che parlavano per l'americana con i capelli bianchi erano attori professionisti del documentario no, nella prima parte no queste erano persone ma si riferisce a marini no, il primo erano testimonianze di persone che avevano viaggiato sulla nave e poi appunto c'erano soldati che aveva fatto questo viaggio anche quello che parlavano stesse non erano attori solo la parte finale erano attori i tre erano attori i tre che parlavano davanti alla commissione invece quella era una ricostruzione basata su una storia vera era attori alla fine sì no, l'inizio no l'inizio erano testimonianze reali la parte finale quando c'era la commissione con quelli che dicevano no, io per lavorare dovevo pagare quella era invece una ricostruzione erano attori solo la parte finale la parte iniziale le testimonianze e la nave che andava su e giù eccetera eccetera no, quelli erano proprio persone l'ha detto anche i soldati esatto c'erano anche i soldati erano persone che avevano vissuto in prima persona questa cosa questa attraversata tremenda c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Anna Ferrara comunque lo sappiamo tutti penso qua non possiamo fare un termine di paragone tra l'emigrazione dei nostri uomini che andavano via negli anni cinquanta parliamo del cinquanta e l'emigrazione di oggi io ho notato sicuramente che c'era molto più rispetto verso il paese che si andava ad occupare dove si voleva cercare un lavoro rispetto a quello che c'era perché ora io vedo che c'è un'emigrazione prepotente come massa parliamo di massa perché poi sempre nella massa ci sono le eccezioni e questo è quello che è imbanzato ai miei occhi vedendo questo documentario per i numeri per il posto dal paese forse forse magari non abbiamo avuto il tempo diciamo se avessi avuto il tempo di vedere tutto Marina perché allora io vi dico all'inizio quando ho sentito di questo film c'è qua l'aniversità di fare questo film su un racconto di questo che ha fatto fortuna sulla cazzola ma guarda poi mi capitò di vederlo in televisione e devo dire la verità è rimasti molto colpita perché appunto è un racconto alla fine di quello che avveniva in questi paesi che magari noi non conosciamo non sappiamo e non era veramente era molto difficile appunto come diciamo il dottore magari era proprio imposto delle condizioni cioè ci sono anche delle parti in cui lui addirittura viene portato in caserma perché la ragazza di cui lui si era innamorato ricambiato e credo che sia la storia credo che sia vera e viene violentata in realtà si scoprirà dopo che viene violentata dal ricco fidanzato di famiglia bene però chissà perché viene subito accusato l'ottocranata perché perché poi quello vabbè però insomma venivano considerati come gente che andava lì per delinquere per giudizio con l'italiano no? quindi non è stato da parte loro facilissima questa cosa perché l'integrazione non è stata semplice da parte loro poi come loro si ponessero sì probabilmente loro appunto erano anche un po' terrorizzati da questa situazione di poter essere magari subito accusati perché visti male l'italiano non dimentichiamoci poi che magari appunto l'italiano veniva sempre eh recuperato ma non ha parlato nessuno no 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 cioè poi praticamente c'è anche il discorso che eh appunto veniva sempre visto male l'italiano perché magari in America aveva esportato anche altro aveva esportato purtroppo altri documenti è riportato sì quindi come ho appena citato all'inizio il cammino della speranza entrano come clandestini e vengono fermati alla frontiera perché considerati clandestini ma poi diciamo il film finisce finisce bene per cui le guardie si impietosiscono e li fanno passare c'è un bambino eccetera eccetera però il cammino della speranza è proprio quello ci fa vedere non voglio fare il discorso insomma eh ci fa vedere proprio questo che allora anche anche noi eravamo considerati magari clandestini quando c'erano delle situazioni particolari insomma eh loro cercavano di passare clandestinamente non potendolo fare eh è un discorso molto ampio nel quale non io mi attengo a un discorso più artistico ecco nel discorso artistico ci sono varie situazioni che comunque vengono riportate perché sono delle situazioni molto sfaccettate e diciamo che anche noi abbiamo sofferto determinate situazioni e magari anche noi abbiamo avuto delle difficoltà a porci eh nei confronti del paese straniero eh certo le testimonianze sono diverse c'è chi appunto arriva e si pone in maniera eh normale diciamo nei confronti del paese nel quale va ma però anche noi magari abbiamo importato le cose buone nel senso che abbiamo portato la vita noi abbiamo dei documenti le scorse scappavano per non fare il carcere le cose che mi andavano e noi dei documenti nella nostra rivoluzione abbiamo la mano nera che parte e quella l'abbiamo portata noi in America quindi diciamo che insomma dai documenti si vede che possiamo apprendere storie passate però per vivere meglio nel futuro perché è fenomale le situazioni sono sempre quelle poi diciamo è come una insomma perché la cosa più brutta comunque dell'immigrazione è quella che lei voleva cogliere è questo aspetto di dolore di sofferenza che ognuno vive nella lontananza e nella separazione e quindi credo che insomma anche la nuova emigrazione diversa che stiamo vivendo noi oggi che può essere negativa positiva con tanti problemi tante cose però chiaramente sappiamo che la sofferenza attraverso questi documenti io parto dal discorso di archivio dove ho letto tanta sofferenza e malinconia di rimanere così lontano dalla famiglia e dalla terra dalle persone che conoscevano dalle proprie radici delle proprie abitudini credo che anche queste giovani queste persone che arrivano dall'Africa o da altri continenti insomma vicino a noi che magari scappano da guerra e da disastri e da cose chiaramente anche venendo qui in Italia soffrono tanto anche questa loro mancanza e questo loro ecco noi non è che poi non sappiamo perché anche noi dicono che ci siamo in America abbiamo portato solo cose positive insomma credo che questa sofferenza sia ovunque Pina Calabron io raccontavo appunto questo episodio che viene raccontato nel film per dire che l'italiano non era visto bene nel senso che subito pensarono si è stato lui poi dopo perché magari tutti gli italiani saranno comportati bene andando a morte e gli dicero questo pregno per esempio fino a qualche anno fa non so c'era la scritta non si fissano case a meridionale purtroppo abbiamo i tempi non è purtroppo 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 non l'hanno spuntata ieri non si affitta a meridionale non è purtroppo e quella persona ecco a proposito di questo Pina Calabron ti stavo chiamando prego vorrei sapere vorrei capire lo chiedo alla direttrice anche se ha qualche documento che ci può far capire perché erano direzionati in modo diverso gli emigranti del nord e quelli del sol ecco perché è una cosa che mi ha estremamente io ovviamente non conoscevo mi ha estremamente colpita anche a merio Casimo Terroni si com'è questo fatto? noi come documenti qua abbiamo i nostri diciamo sono stati loro prima di noi andare fuori poi però il problema noi nasce ma noi viviamo dopo la guerra dopo l'unità d'Italia scusa dopo l'unità d'Italia noi viviamo e da là noi diventiamo poveri diventiamo diversi cioè perché è stata un'annessione dai nostri documenti quello che è da sottolineare ecco questo dai documenti si vince questo insomma stiamo parlando di un discorso della differenza tra nord e sui che anche noi cioè l'italiano del nord veniva aveva una fila e noi un'altra ma non era solo per mafia era un discorso anche tra di noi che c'era questa forma di divisione perché l'unità d'Italia avviene dopo la prima guerra mondiale insomma nessuno quando fanno il fronte alla prima guerra mondiale nei documenti che noi abbiamo questi giovani non si conoscivano nemmeno a capire perché parlavano di eletti diversi e quindi e quindi cioè noi non ne siamo mai sei uniti l'unità d'Italia non c'è nemmeno direi per me adesso guardiamo la stessa 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 cosa allora prego un attimino che abbiamo il tempo di girare la telecamera perché ricordiamo che Melito TV manda poi integralmente l'appuntamento si prego volevo dire una cosa prima di iniziare che il mio amico guardalo comincia a dire qualcosa allora ehm io sono mi chiedo scusa non è tutto perché è l'inconveniente insomma dell'audio ma purtroppo sono cose che possono capitare però volevo dirvi un piccolo particolare come vedete il mondo dell'archivio è meraviglioso nel ricordo nella memoria perché comunque noi viviamo tutti bene noi colleghi tra di noi tant'è che voi avete visto l'altra volta l'altro direttore poi c'è stata Mirella oggi ci ha fatto questo bel regalo e questo signore che andiamo ad ascoltare tra poco questo è il mio direttore che io avevo a Palmi adesso è in pensione quindi ecco come siamo sempre legati e lui Raffaele lui è adesso dirige un giornale e quindi insomma è un piacere prego dottore venga qua così vieni Gigi per favore no vieni qua vicino a me ti vorrei qua così abbiamo anche quindi non mi lasciano mai sale insomma e così lo riconosciamo meglio ecco certo un attimino per la telecamera ecco qua così prego il microfono io vi chiedo scusa stasera ma sono venuto proprio per perché mi piaceva l'argomento in questione come è stato posto e anche il perché di questo argomento che io sto vivendo una realtà molto drammatica che è quella della piana del tavolo dove noi abbiamo diciamo la la popolazione che vive di immigrati che vive peggio di qualunque altro posto vivono in tendopoli io la prima esperienza che ho vissuto l'ho vissuta grazie al vescovo Milito certo avendo io un giornale il Corriere della Piana che è un mensile e mi prego di poter fare un appello perché stava arrivando il periodo invernale per raccogliere delle coperte che vive da offrire a questi immigrati con la certezza da parte sua e nostra che il fenomeno della tendopoli andasse a sparire io purtroppo oggi devo dire che invece non è sparita ne sono diventate tre le tendopoli e addirittura la gente che viveva prima attorno alle tendopoli alla prima tendopoli il parroco Don Roberto Meduri è una persona che sta vivendo costantemente il dramma di questa gente e lui il punto di riferimento per tantissimi di questi giovani che vengono qui nella speranza di trovare un po' di pace ma non la trovano io ci sono stato con Don Roberto a portare delle coperte siamo andati di notte dei sacchi a pelo per poter dormire e siamo andati per darle di notte con la torcia a rischio mio perché era la prima volta che entrava ma c'è anche la differenza ma ci sono gente di sei nazionalità diverse che vengono dall'Africa il dramma è che mi sono visto contornato queste persone e il parroco si era allontanato per parlare perché c'è dentro questo capannone dove eravamo andati che era una vecchia fabbrica ma è entrata in funzione nelle tante quelle fabbriche della 488 le chiedo scusa sono quelle mentre si va la strada per tropea praticamente no 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 sono quelle nell'area di San Ferdinando nell'area di San Ferdinando lì ci sono tantissime industrie che sono state fatte con la legge 488 e sono industrie che sono state fatte da industria del nord che sono venuti hanno truffato lo stato italiano e sono andati via in maniera indenne cioè io speravo che quando dal momento dell'insediamento dell'attuale procuratore a Palmi si andasse a riprendere questo flore perché noi venivamo sempre utilizzati dal nord come persone poco raccomandabili ovunque andiamo io ho vissuto anche un'esperienza drammatica per mia moglie che durante un periodo di insegnamento a Chiari in provincia di Brescia appena arrivata una delle più grosse famiglie del Brescia di Chiari addirittura mi vergogno a dirlo di una delle grosse case di produzione di macchinette da caffè e rifiutava assolutamente che ci fosse un insegnante per il suo figlio di meridionale abbiamo avuto una lotta che è durata quasi cinque mesi con proprietore sindaco e tutti che sono schierati devo dire che era un sindaco legista tra l'altro si è schierato con mia moglie scusami devo aggiungere che sua moglie non perché c'è nulla qua davanti ma perché la conosco personalmente è una delle migliori insegnanti che abbiamo nel nostro territorio il problema che mi sono praticamente questa esperienza ho vissuto in prima persona però la cosa più bella diciamo la soddisfazione più bella per mia moglie è avvenuta dopo due anni quando il bambino ha avuto esiti ultrapositivi e andava benissimo con l'insegnante meridionale tant'è che alla fine quando mia moglie ha ottenuto il trasferimento perché io vivevo giù con due bambine una di quattro e una di sette da soli senza io non so cucinare non mi sono adattato all'aiuto dei suoceri mi sono adattato a questa a questo biegno di sofferenze che abbiamo patito però ho visto la mamma di questo bambino che veniva raccomandasse a mia moglie no lei deve stare mi deve fare la cortesia a rimanere e completare il quinquennio andata via mia moglie il bambino fu spostato a quella scuola non ci rimase più in quella scuola è stata una tristezza da parte mia moglie perché voleva restare ma di fronte alla necessità delle proprie figlie è chiaro che il ritorno però l'esperienza drammatica che ho vissuto quella sera la ricordo ancora perché io sono anche presidente è una cooperativa agrumicola una delle più antiche cooperative io ho cercato come tanti altri produttori di vedere nella nostra zona quelle le due realtà che vocazionati al territorio l'olivicoltura e l'agrumicoltura forse è un grande errore il sistema diciamo di monocultura che abbiamo utilizzato negli anni scorsi perché ci ha comportato che nel momento in cui è andata in crisi una delle due cose il settore è andato all'anca all'aria infatti oggi io sono stato in campagna ho girato quasi tutta la piana le campagne sono quasi tutte abbandonate immaginate che adesso nell'arco di due settimane vi faccio un esempio che forse potrebbe sembrare una stranatura ma non è una stranatura perché poi a volte i produttori vengono accusati anche ingiustamente perché la gente non capisce qual è il problema immaginate che fino a due settimane fa i mandarini comuni quelli che noi chiamiamo i palermitani si vengono utilizzati per essenza per fare essenza maggiormente perché ormai il mercato di quel mandarino dalle parti nostre non c'è più come frutto nessuno l'ha utilizzato in questa direzione e si è partito con un prezzo di 39 centesimi una cosa che non era mai accaduta beh dopo due settimane siamo arrivati a 25 centesimi io vi posso garantire che oggi raccogliere i mandarini significa avere una spesa non inferiore a 18 centesimi se poi ci aggiungiamo che non vengono pagate in immediatezza i produttori devono attingere a fondi le banche non ci stanno più non esistono più a darti affidamenti una volta noi produttori venivamo pagati ogni sabato poi ogni mese poi ogni tre mesi dopo sei mesi poi un anno adesso quando si vende l'essenza o quando si vende il succo ed è un'assurdità ecco che poi quando voi sentite dice ma l'Africano viene pagato 25 euro al giorno che poi non è neanche vero perché la verità è quella che dicono le persone viene fatta una lavorazione a cassette perché diciamo che queste persone si adattano a lavorare con un ritmo di intensità che raccolgono un grande quantitativo quotidianamente e raggiungono non 25 euro ma raggiungono 50 euro al giorno facendo raccolta a cassette non è giusto e questo perché è una forma che praticamente serverebbe uno sfruttamento però considerate che l'arancia viene pagata a 6 centesimi il chilo quindi considerate come fa un produttore a poter pagare i prezzi che le leggi italiane stabiliscono sono delle cose strane che però di questo la verità non si dice mai si dice una mezza verità poi un'altra cosa che di cui non si parla i soldi che sono stati spesi negli anni scossi nei paesi in Africa dalla cooperazione internazionale che sono serviti soltanto dalle grandi industrie quelle che hanno fatto strade che hanno fatto industria di estrazione di petrolio per i propri guadagni portando lì il loro domicilio fiscale e non danno ricchezza a quella gente oggi ci sono flussi perché lì c'è una instabilità politica quotidiana io ho parlato con quello che è il cosiddetto capo di questo gruppo di africani che ci ha detto questo mi ha detto testualmente io mi adatto a vivere anche a terra qui perché vivevano dormendo due intende di quelle che si vendono a Lido che costeranno non so quanto più o meno e poi ogni gruppetto ogni sedi mettevano un cucinino e si cucinava dice io nei paesi di origine nostra mandare 60 euro significa vivere almeno tre mesi cioè dare da mangiare tre mesi io mi posso adattare perché adesso sto qua due mesi lavoro con voi qui in queste condizioni disumane poi mi sposto a fare il raccolto del pomodoro del tabacco e poi finisco con le vendemmie è un flusso continuo però noi dobbiamo ricordarci anche questo oggi specialmente che sentiamo sempre il grande rifiuto questo fenomeno io sto guardando quella fiumare di gente che si avvicina verso l'America e mi chiedo che cosa faranno gli americani perché me lo chiedo veramente dopo 20 giorni di marci estenuanti di fame uno cerca libertà cerca un po' di pace e questo è lo stesso per questa gente noi abbiamo fatto un altro tipo di immigrazione non abbiamo fatto una migrazione forzata dalle guerre o dallo sfruttamento dei dittatori e delle cose non abbiamo fatto una migrazione perché purtroppo non c'era lavoro abbiamo avuto un periodo di guerre un periodo di dittature e abbiamo avuto anche un buon periodo di ripresa che poi purtroppo come tutte le cose con le crisi economiche va tutta all'angallare il settore con Micolo è andato in crisi paradossalmente per una sciocchezza fatta a Rosario perché prima le arance venivano pagate bene le diciamo rifornivamo quasi sempre la Coca Cola per fare la Fanta poi non voglio pensare un pazzoide sparò con i fucili a palline sulla coscia un africano e successeva sul mosso di Rosario quindi la guerra e la Coca Cola fu accusata di sfruttare gli emigrati e quindi ha tolto tutte le commesse da quel momento dottore io le voglio raccontare un episodio che non va a favore ma va contro la situazione io all'età di 22 anni per concludere le faccio le dico intanto le ha nominato Monsignor Milito che noi abbiamo dato il premio Muse tanti anni fa come direttore come direttore degli archivisti italiani quindi lo conosciamo bene mi conosce bene conosce bene le Muse comunque andando al di fuori di questo discorso io praticamente non faccio il servizio unitare faccio l'obiezione di coscienza faccio l'obiezione di coscienza alla Caritas di Ocesano e in quel periodo avevano aperto il centro era morta da poco suara Antonietta Castellini che era la famosa suara Antonietta che gestiva la casa per ragazze madri in via Reggio Campi dove vi era l'istituto no dove vi era l'istituto praticamente tecnico femminile tanto no 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 dove c'era l'istituto tecnico femminile suara Antonietta era un'altra e quindi gestiva quell'istituto lì viene diciamo alla Caritas viene dato l'ascito di un appartamento che sarebbe all'incrocio con la via Vittorio Veneto sul ponte della Libertà quel palazzo grigio che si vede dove c'è l'antico pastificio abbandonato sulla sinistra e allora viene subito intestata una casa a suara Antonietta Castelliti io arrivo fresco la dinomina perché all'epoca il ministero impose una valanga di 70 obiettori alla Caritas e mi mandano in questo centro perché avevo per le capacità relazionali facevo lavoro di segreteria e tanto e tanto altro dopo un primo tirocinio dalle ragazze madri naturalmente questo centro aveva parliamo di 30 anni fa eh aveva il compito di accogliere le donne straniere che arrivavano tra mille difficoltà e quindi dai più disparati magari arrivavano di notte io ero lì che facevamo il turno di sera di notte quindi aprivo e arrivavano queste con queste valigie eccetera naturalmente i documenti veniva fatto il controllo e tanto altro e poi si procedeva ad aiutarli o a cercarle di inserire nel mondo del lavoro ebbene arrivano tre straniere con grande stato di disagio tutti i documenti a posto eccetera ehm naturalmente siamo riusciti a trovare una sistemazione mandandole la mattina raccogliere le arance in quella di Rosano quindi io ogni mattina le accompagnavo alle sei alla stazione le prendevo la sera con un rituale che durò circa un mese un mese e mezzo una sera la suora che era la referente su Giulia Pavin mi ricordo bene che veniva dal nord quindi era un comandante dice ma io non le vedo stanche queste signore quando tu li porti dice senti perché era proprio una furbona dice sai che dobbiamo fare dice una mattina alle sei prendiamo due macchine tu le accompagni poi ci vediamo avevamo una 127 azzurra ma di quelle proprio dice poi andiamo con la tua macchina noi dobbiamo seguirla perché sapevamo dove dovevano andare a lavorare e via dicendo ebbene le tre signore non andavano a raccogliere le arance ma andavano a prostituirsi le abbiamo beccate mi ricordo la superiore si era portata il classico credetemi il classico legno della scopa in macchina questa è storia non so mi prendo la responsabilità di quello che dico è scesa con il legno della scopa per e mi ricordo trovarono appena rientrammo in istituto gli fece trovare delle valigie con tutte le cose fuori dalla ecco per dire come poi ci sono questi casi che fanno crollare poi magari lei ecco con tanta giustamente passione enfasi dopo quello che fa eccetera poi ci sono questi casi tra virgolette legalizzati perché uno cerca di aiutarle questi signori avevano i documenti in regola avevano bisogno di aiuto e già i soldi li avevano presi nelle prime settimane di lavoro eccetera perché erano andati i primi giorni a lavorare poi chiaramente trovarono sistemazione diversa però come per dire come anche nell'immigrazione poi ci sono queste casistiche questi casi ma al momento voi avete bisogno di aiuto come per gli stranieri perché mi è sembrato di capire perché cercate di io non è che parlo semplicemente io ho vissuto questa amarezza che ancora non riesco a smaltire perché prima di questa esperienza ho fatto anche un'altra nei vostri campi rome quando c'era Morelli la battuglia di Zingari e compagnia bella all'epoca andavo a insegnare e ho avuto anche la fortuna di un ragazzo che oggi fa il panettiere che mi ringrazia sempre per quei sacrifici io la mia vita mi sono dedicato sempre al sociale in tante maniere una questa è la cosa più importante che ritengo oggi le forme di emigrazione che mi stanno colpendo sono queste e quella purtroppo io ho fatto il giro oggi della parte alta dell'entroterra di Santa Cristina per esempio Santa Cristina è un comune che si è ridotto a 500 o 600 abitanti per poterlo raggiungere ci ho studiato 70 camicie perché è nel completo abbandono con due ponti che rischiano di cadere da una parte e dall'altra nella insensibilità noi non abbiamo più né cantonieri né aziende private che vanno a pulire le cunette le fosse le strade sono una cosa costante e continua ieri ne abbiamo parlato con l'assessore alla viabilità della comunità della città metropolitana ma giustamente ognuno dice i fondi che abbiamo le deleghe che ci hanno date sono minimali non sono quelle che noi dobbiamo avere rapportanti ci siamo partiti con due anni e mezzo di ritardo e confrontare le altre città metropolitane c'è sempre un qualcosa che si pone come freno nei sistemi della cambia quello che sto vivendo il dramma è che io mia figlia anche le lauree oggi servono a poco mia figlia è finita come psichiatra insieme al marito che è l'internista reumatologo in Inghilterra dopodiché mia figlia non ci ha fatta è ritornata e oggi me la vedo a fare la psichiatra con una nomina a 6 mesi rinnovabili al manicomio l'ex manicomio criminale in Barcelona Pozzo di Conto immaginate voi la differenza è il marito che è reumatologo che è internista con tanto di dottorato di ricerca con due riconoscimenti al mio vive all'ospedale ai vitazzo con una nomina allora mi domando se neanche la laurea è più in medicina è sufficiente per avere un posto di lavoro fisso è chiaro che i nostri giovani sono destinati a andare fuori a voglia che parliamo sempre si parla di regionalizzazione e parliamo però però il paradosso ecco questo il mio intervento è questo noi abbiamo una ricchezza che non sappiamo sfruttare perché il Dio ci ha dato un territorio ricchissimo per quello che sono le doti della natura però non ci riusciamo ma non solo io ne puoi dire signore io la cooperativa me la sono creata da solo io ho messo 132 soci dentro e abbiamo lavorato benissimo è l'unica cooperativa che non ha lasciato debiti tante altre invece sono in situazioni catastrofiche perché bisogna sapere per gestire e affrontare le realtà io il problema che spongo oggi all'attenzione di tutti quanti noi è che prima cosa ci dobbiamo ricordare che il primo punto d'approccio per chi viene dall'Africa purtroppo è l'Italia che viene considerato non un miraggio ma una tappa di passaggio malgrado noi da noi la gente viene però alla fine è costretta a rimanerci e se noi non avessimo gli stranieri gli anziani perché i nostri paesi di ventoterra tra un paio di anni saranno composti solo da anziani io ho 70 anni tra un paio di anni avrò bisogno anch'io di un abbataggio perché non ci sarà non ci saranno i nostri figli a abbatarci ci sarà un discorso lina Calabro un intervento così andiamo grazie dottore prego sia come di qui lina le condizioni di vita di queste persone ovviamente come ci ha ben illustrato questo nostro dottore Cordo non sono delle migliori sicuramente molti vorrebbero anche ritornarsene tornare indietro questo non è possibile rientrare in Africa per queste persone non è possibile e questo a chi lo dobbiamo secondo voi alla scarsa lungimiranza di chi ha fatto certe leggi di chi insomma vede questa categoria come una specie di ruota di scorta del nostro schiavismo dello schiavismo moderno perché se possiamo permetterci di tenere bassi salari anche i nostri è perché c'è questa scorta di riserva che serve al ricatto queste persone non possono rientrare anche se tornassero in Libia non c'è manco il taxi a pagamento diciamo per poter tornare verso il golfo di Guinea è una situazione insomma per cui l'Europa continua a usarli anche qui io devo dire che insomma la finalità stasera era quella di dibattere sull'argomento e ce l'abbiamo fatta quindi chiaramente l'ora si è fatta pure sono le 20 e 15 di conseguenza e noi vi ringraziamo non so se qualcuno vuole proprio dire l'ultima cosa se non vorrei cacciare la parola a nessuno ma il dibattito è ampio e ci ripromettiamo magari poi di fare un approfondimento anche perché nel mese poi di maggio faremo una vera e propria tavola rotonda in cui ci saranno tutti gli argomenti che diciamo cambieremo nel mese di dicembre per esempio parleremo del cibo perché dicembre insomma ha sempre questo rapporto col periodo delle feste eccetera quindi ogni mese avrà la sua peculiarità e il suo argomento quindi l'esperimento è riuscito ci ripromettiamo di migliorare il suono e le immagini per la prossima volta ma naturalmente buona la prima lo possiamo dire ringraziamo Maria Fortuna Daminasi per l'accoglienza qui all'Archivio di Stato Paola Benavoli che cura questo ciclo così come Melito TV che con Francesco Logoteta ha ripreso integralmente il nostro evento poi alla fotografia praticamente la segretaria Rosaria Livodia per rapporto con i soggi la nostra Eleonora Eleonora Pratico quindi abbiamo un po' tutte le diciamo ricostruite un po' le nostre figure vediamo l'appuntamento domenica prossima domenica parleremo del rapporto tra la vita e la morte l'argomento sarà la vita oltre alle muse presenteremo una storia molto particolare tra l'altro di una donna che è di Palmi di Patrizia Pipino quindi questo è l'argomento generale e che verrà raccontato come noi solitamente impostiamo gli argomenti ci sarà anche un momento dedicato alla danza ma anche quel momento dedicato alla danza ha una storia ci sarà Samuela Piccolo ci sarà Antonio Nicolò che è l'anatomo patologo ci sarà l'avvocato Rocco Iorianni che viene direttamente da quella di Palmi Santino Salerno che uno dei critici insomma di chiara fama del premio Palmi e non solo è l'autrice di questa storia molto particolare la vita oltre per il resto ve lo racconteremo il prossimo appuntamento arrivederci e buona serata grazie a tutti